Dopo gli esposti e le polemiche che vanno avanti da mesi, è intervenuta la magistratura, come era già accaduto nel 2019. Il Tribunale di Brindisi ha disposto il sequestro preventivo dell'isola ecologica di Ostuni, situata in contrada Santa Caterina, alla periferia della città bianca sulla strada per Carovigno. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce. La struttura al momento resta aperta al pubblico, ma sono concesse solo tre settimane di tempo all'amministrazione comunale, commissariata dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, per individuare una soluzione alternativa per lo stoccaggio dell'umido che provoca odori nauseabondi nella zona. Proprio il puzzo insopportabile, reso ancora più intenso nella stagione calda, era alla base di una serie di esposti giunti alla procura di Brindisi nel mese di agosto dello scorso anno contro il Comune e contro la ditta titolare del Servizio di Nettezza Urbana, la biancoigiene ambientale di Nardò. L'amministrazione comunale, che ha deciso comunque di ricorrere al Tribunale del Riesame contro il provvedimento di sequestro e che per il momento, da non interpellata, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, pare stia studiando una serie di soluzioni per evitare che la frazione di umido sosti nell'isola ecologica. Potrebbero essere effettuati trasbordi dei rifiuti in altre aree su mezzi pesanti, poi diretti nei centri di smaltimento autorizzati, o lo stoccaggio potrebbe avvenire nel nuovo centro di raccolta che il Comune sta realizzando nei pressi della zona industriale di Ostuni. C'è poi il problema del cantiere avviato oltre un anno fa e abbandonato dalla ditta incaricata, che avrebbe dovuto adeguare e mettere in sicurezza il centro di raccolta. Nello scorso mese di novembre il Comune di Ostuni ha rescisso il contratto per la mancata ultimazione delle opere. Si dovrà procedere a una nuova assegnazione per individuare la ditta in grado di completare finalmente i lavori.